Noi ringraziamo Fabio, che avete dato la possibilità di essere orgogliosi di oggi fare questa nostra presentazione. Io parlo da parte di sole mediterranea, abbiamo preparato dei nostri prodotti tipici specialmente per le ragazze e le persone che non sono siciliane e spiego in brevissimo tempo cosa abbiamo preparato. Noi abbiamo preparato le famose arancine sia alla mozzarella che di carne e al pesce, le olive schiacciate verdi che tutti gli anni noi prepariamo dalla nostra terra, i vari assaggi di formaggi, primo sale con peperoncino, noce, olive e pepe. Il pane è puntato, il primo pane è puntato, il pane è contito, fatto proprio stamattina dai nostri dipendenti, farcito con un po' di olive e grana. Abbiamo la ricotta fresca e la sarda, la sarda a mano, no le olive le abbiamo, si fa in vari tipi, la nostra buiolata, noi la chiamiamo buiolata, è la stessa pane che si fa allo stincione, continuo con cavo orsiori, olive nere e tritato. Abbiamo la nostra tipica ricotta fresca che abbiamo preso stamattina dal nostro casetizio. Letto questo, noi vi ringattiamo ancora e vi auguriamo una buona giornata e un buon proseguimento. Complimenti.